Se hai in mente una startup o sei nella fase di crescita iniziale con la tua nuova startup hai necessità di fondi per finanziarla. Tramite la consulenza operativa puoi ricevere una strategia declinata già al tuo caso oltre che tutta la documentazione relativa agli strumenti che sono in essere e che puoi utilizzare appunto per finanziarti. Oltre a questo in una consulenza tramite video call io ti risponderò in maniera espressa immediatamente a tutte le domande relative appunto a questa procedura di finanziamento tempi, costi e erogazione. Sebastian Abdor Italia, prenota la tua consulenza operativa.